Exo Rattics, oggi siamo qua per presentarvi la nuovissima Kia Sportage, motorizzazione 1.6, 150 cavalli, motorizzazione hybrid. Si tratta di un'autovettura super recente, immatricolata aprile di quest'anno con solamente 5.000 km all'attivo. Possiamo vedere qua già dall'inizio i cerchi da 17 in lega che montano al momento le gomme estive. Abbiamo poi l'autovettura nella colorazione Total Black che riprende anche sui vetri oscurati posteriori e anche le barre quelle al tetto. Si tratta di un'autovettura che come categoria ne rientra nella categoria SUV, quindi autovettura super comoda per l'utilizzo di famiglia, per grandi viaggi e anche spostamenti tutti i giorni. Presenta come esistenza il parcheggio i sensori di parcheggio e anche la retrocamera quella posteriore. Ecco qui il bagagliaio che presenta una capacità di 562 litri oppure 1751 con i sedili abbattibili. Passando al lato posteriore abbiamo i sedili che presentano le rifiniture parziali in pelle con lo schienale d'appoggio completamente in tessuto, con le attaccature Isofix sui due sedili con i laterali e l'abbattimento porta-sci nel vano con lo centrale. Nel lato anteriore abbiamo i sedili anche qui con le rifiniture parziali pelle e tessuto con la regolazione completamente elettrica. Abbiamo il volante con tutti i comandi al volante per quanto riguarda i comandi della radio, della velocità e dietro tutti i comandi terge luci con i sensori luce e sensori pioggia. Abbiamo qua il cruscotto tutto quanto digitale incorporato con l'infotainment tutto quanto digitale dove è possibile anche qua collegare il proprio telefono con il sistema di android oppure mirror link per quanto riguarda il sistema di navigazione, collegamento di bluetooth e da qua si possono poi impostare anche tutte le diverse impostazioni di sicurezza e di guida. Questa autovettura come tutte le altre la potete trovare direttamente online sul nostro sito.